Ciao a tutti! Come state? Spero molto bene! Oggi voglio inaugurare una serie di video sulle espressioni italiane più comuni utilizzate per chiacchierare nella vita di tutti i giorni. La difficoltà di queste espressioni sta nel fatto che esse hanno due possibili significati, uno letterale e uno metaforico. Restate con me per scoprire l'espressione di oggi! Bene, conoscete questo oggetto? Si chiama spugna in italiano ed è usata per lavare le stoviglie, non è vero? E se ora vi dicessi gettare la spugna, a cosa pensereste? Probabilmente a questo, visto che gettare significa lanciare via qualcosa. E questo è il significato letterale di questa espressione. Però questa espressione ha anche un altro significato, un significato metaforico, e cioè ritirarsi, arrendersi, mollare un'impresa, rinunciare a proseguire. Ad esempio, prima stavo provando a realizzare un mio ritratto. Però, come potete vedere, non sono proprio portata, quindi ho detto basta, disegnare non fa per me. Getto la spugna, e cioè mi arrendo. Decido di rinunciare a proseguire, mollo l'impresa di realizzare un mio ritratto. Per quanto riguarda voi, invece, mi raccomando, anche se l'italiano in qualche momento vi sembra molto difficile, non gettate la spugna! Noi di Learniamo siamo pronti ad aiutarvi, passo dopo passo, in questo viaggio di apprendimento. Per questo, mi raccomando, ricordatevi di passare sul nostro sito, dove trovate tutte le lezioni e gli esercizi, e non dimenticatevi anche di seguirci su tutti i nostri social, per molti altri contenuti extra! Io vi aspetto al prossimo video! Ciao, a presto! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.